Forse non lo sapevi, ma le tue foto potrebbero apparire così. Perché è necessario ritoccare una foto? Molti artigiani non si rendono conto del valore dell'elaborazione delle foto, tuttavia è uno strumento chiave per promuovere il business e attirare più clienti. L'elaborazione delle foto aiuta a evidenziare la qualità del tuo lavoro, a creare uno stile coerente del tuo marchio e a mostrarlo a potenziali clienti e studenti. Con il ritocco fotografico puoi mostrare il tuo lavoro nella migliore luce possibile, con il tono della pelle perfetto e senza nemmeno usare il correttore. Le foto di qualità del tuo lavoro porteranno a più clienti che si rivolgono a te per i servizi. Questo, a sua volta, porterà ad un aumento dei profitti e del numero di studenti che vogliono imparare da te. Pertanto, il ritocco fotografico è un potente strumento nella promozione del business del trucco permanente. E quei maestri che riconoscono il valore dell'elaborazione delle foto guadagnano 10 volte di più rispetto ai maestri che gridano a tutti che non stanno ritoccando. In segreto, ti dirò che questi maestri fanno di più il ritocco. La cosa più divertente è che collaborano con noi. Mi chiamo Victoria Rudikenko. Sono il creatore del progetto Stepa Academy. Collaboriamo con centinaia di top master in tutto il mondo. Nelle mie masterclass, ti insegnerò a fare un bel ritocco professionale senza difficoltà e programmi complessi. E ancora di più senza computer. Inoltre, nei miei corsi di perfezionamento, ti insegnerò a scegliere le lampade giuste, a presentare il tuo lavoro, a rimuovere e montare reels. Poiché te lo insegnerò io, nessuno lo insegnerà. Nella descrizione di questo post puoi scoprire tutte le informazioni dettagliate sui nostri corsi di formazione e master. Non trascurare questo potente strumento per promuovere la tua attività. Ci vediamo presto!